Eccoci, allora, passiamo, diciamo, questi sono gli eventi che precedono naturalmente poi la sua caduta il 5 maggio, anche data storica, in cui Napoleone ci lascerà e che poi sarà il prodromo per il successivo congresso di Vienna, ma Napoleone nei suoi viaggi ha raccolto non soltanto ricchezze, ori, argento, pietre preziose, documenti, ma soprattutto quando arriva a Roma si porta a casa tutta la documentazione, manda a Parigi tutta la documentazione della Santa Inquisizione e a Parigi arrivano circa 110 carri trainati, naturalmente non c'erano ancora le ferrovie e vanno a Parigi perché lui vuole capire e dimostrare, diciamo, cosa ha comportato, diciamo, la presenza della Chiesa in un periodo storico che era il Medioevo, il Rinascimento naturalmente e le stragi che sono state fatte, purtroppo non ha avuto tempo di consultare queste cose e i carri rimasero a Parigi, alla fine del quando cadde naturalmente Napoleone fu chiamato il papato e che si interessò per il recupero di queste opere, ma di questi 110 carri ne tornarono solo 10, quindi gli altri furono abbandonati e non si sa che fine fecero. E sarebbe stata interessante invece la conservazione di questi documenti perché ci dava un'esatta immagine di quello che era stata la strage della Santa Inquisizione. Ma vediamo adesso il prossimo contributo, passiamo al Congresso di Vienna. Dopo le guerre napoleoniche, il Congresso di Vienna. Dopo 20 anni di guerre sanguinarie, i paesi vincitori su Napoleone decisero che bisognava dare un nuovo assetto all'Europa in modo tale da prevenire nuovi conflitti. I principi a cui si ispirò il Congresso di Vienna sotto la leadership del rappresentante austriaco Metternich furono quelli della legittimità con il ripristino dei sovrani spodestati da Napoleone e dell'equilibrio politico garantito dalla divisione dell'Europa in sfere di influenza dalla barriera di Stati ai confini della Francia, dall'ingrandimento di Prussia e Regno di Sardegna, dalla limitazione dell'espansione della Russia e dalla funzione di controllo dell'impero austriaco. Il Congresso di Vienna si tenne dall'autunno 1814, mentre Napoleone si trovava all'isola d'Elba e si chiuderà nel giugno del 1815, quando Napoleone era scappato dall'isola d'Elba ed era tornato a Parigi, dove rimase imperatore dei francesi per cento giorni. Il Duca di Wellington, uno dei rappresentanti inglesi al Congresso, lascerà i lavori di Vienna giusto in tempo per andare ad affrontare e sconfiggere Napoleone nella battaglia di Waterloo. Il Congresso dura otto mesi, tra feste sfarzose, banchetti, confronti e litigi per decidere il destino dei popoli d'Europa. Un destino ancora una volta calato dall'alto, perché con la caduta di Napoleone ritorna il principio secondo cui sono i sovrani e i loro ministri a decidere per il bene di tutti, ma senza consultare nessuno, è la restaurazione, l'idea di rimettere al loro posto le vecchie dinastie regnanti e di ridisegnare i confini degli stati per garantire una pace duratura. Tra i partecipanti fu ammessa anche la Francia, considerata colpevole ma anche vittima degli avvenimenti. Questo grazie all'azione diplomatica di Charles Taliran, ex vescovo e rivoluzionario francese, che era diventato ministro degli esteri del re di Francia, Luisi XVIII, che si presentò come il difensore dei piccoli stati e che non avrebbe chiesto nulla per il proprio paese. Le discussioni del Congresso di Vienna, che non si svolsero mai in sessione plenaria, ma in riunioni informali tra potenze, continuarono, malgrado la fuga di Napoleone dall'esilio sull'isola d'Elba. L'atto supremo del Congresso di Vienna fu firmato nove giorni prima della disfatta finale di Napoleone nella battaglia di Waterloo, avvenuta il 18 giugno 1815. Nonostante l'opera di Napoleone sia stata contraddittoria, grazie ad essa l'Europa subì dei grandi cambiamenti. Ci sarà l'affermazione della classe borghese, la diffusione del sentimento nazionale, l'evoluzione verso una laicizzazione dello Stato e una spinta verso la modernizzazione degli assetti politici e sociali. Napoleone aveva cercato di realizzare un'idea nuova di impero, introducendo nuove leggi per la gente e il rappresentante della borghesia crea un impero diverso, dove vengono aboliti gli ultimi istituti feudali, espropriati i beni ecclesiastici, abolite le barriere doganali tra le regioni e create nuove strade e scuole. Consolida alcune delle conquiste della rivoluzione francese, come l'uguaglianza di tutti i cittadini e la laicità dello Stato. Suo il codice napoleonico del 1804, che è il primo codice civile moderno. Sarà istituito il diritto a fallimentare il catasto, i cimiteri e verrà sviluppata la conservazione degli alimenti e anche il cibo in scatola. La rivoluzione industriale, una rivoluzione della conservazione del cibo, che è fondamentale. Questo avveniva perché proprio Napoleone aveva bisogno di fare le grandi spedizioni e quindi doveva mantenere l'alimentazione di un esercito molto importante e molto potente. La strategia militare di Napoleone è proprio quella di garantire il massimo della sussistenza alle truppe perché fossero in grado di combattere, ma anche perché non perdessero tempo in primis. Quindi su questo diciamo che la sua mancata lungimiranza è nel proporsi avanzate con distanze alla fine che si sono rivelate incolmabili e la Russia è l'esempio più eclatante. Finché si combatteva in spazi su qualche decina, centinaia di chilometri, ma quando i chilometri si sono tramutati in qualche mezzo migliaio, migliaio, i rifornimenti e soprattutto le avversità climatiche furono una delle cose che dietro parecchio filo da torcere nei vari combattimenti. Tanto che Waterloo, la sua sconfitta, la si deve soprattutto a una pioggia torrenziale. Viene spesso ricordato che se non pioveva qualche giorno prima, così a catenelle, riusciva ancora a spostare i soldati come avrebbe voluto lui, ma i campi completamente allagati resero impossibile anche il trasferimento di truppe. Certo. Livio Simone è questo Napoleone che ci apre una storia totalmente diversa e soprattutto diciamo l'uomo che fa l'impero e che porta avanti un'idea nuova per l'Europa. Ma il concilio di Vienna vuole risanare l'Europa che ha subito un sacco di guerre. E allora come ci riuscirà? Come riuscirà a farlo? Allora, il congresso di Vienna è uno di quelli che io considero i tre grandi congressi formatori dell'Europa. Il primo è la pace di Westfalia che chiude veramente l'era delle guerre di religione. Dalla pace di Westfalia in avanti non si combatterà più in Europa per motivi religiosi, a parte tempi molto molto recenti. Il congresso di Vienna, ovviamente, ha un grande problema. Il problema è che si è risvegliato il senso della nazione, il senso di appartenenza a qualcosa che non è più identificato in una figura fisica, cioè in un re, ma in un sentimento che è veramente difficile da definire. In alcuni casi può essere la lingua, ma ad esempio in Italia inizia a svilupparsi un senso di italianità a fronte, in realtà, di una lingua non comune, perché se vogliamo l'italiano è una lingua che fondamentalmente nasce, prendendo da Dante, proprio nell'Ottocento. Però, indubbiamente, inizia ad avere un senso di italianità. Si crea un senso forte nella Spagna, proprio legato alla guerra contro i francesi. Si hanno i discorsi di Fichte alla nazione tedesca, quindi in Germania si sviluppa il senso proprio dell'essere tedesco. In Polonia, la Polonia riscopre il desiderio di essere nazione. Quindi il congresso di Vienna, da un lato, deve confrontarsi con quello che poi, in realtà, sarà il sentimento che metterà fine al sistema di equilibrio delle potenze che proprio verrà creato a Vienna. Diciamo che i cento anni successivi sono proprio il tentativo delle nazioni di scardinare il sistema di equilibrio delle potenze creato a Vienna. Dall'altro lato, c'è un desiderio di legittimità. C'è chi ha vinto la guerra e giustamente ha subito, pensiamo agli stati tedeschi, ma pensiamo in primis alla dinastia dei Borboni che rientra in Francia. E quindi c'è questa volontà di, pensiamo al Papa, il Papa nel Pio VII è stato tenuto quasi in prigionia a Fenestrelle, quindi c'è tutto questo desiderio, se non proprio di rivalsa, ma almeno di ritorno dei governanti dei propri territori. Il terzo punto è il desiderio, sentito da tutti, di avere un periodo di pace. Dopo vent'anni di guerre effettivamente devastanti, si è alla ricerca di un equilibrio, di una pace. Quindi chi è al congresso di Vienna, come chi è al congresso di Parigi nel 1919, deve giocare con tutti questi vincoli e creare un sistema. Allora, in parte il congresso di Vienna ce la fa, nel senso che c'è un ritorno dei legittimi, chiamiamo i governanti, che in talunni casi, vediamo Luigi XVIII, sono abbastanza intelligenti da capire che loro ritornano, ma non possono ritornare al vecchio sistema. L'attacco Luigi XVIII non si ha un ritorno al vecchio regime borbonico. E poi il fratello minore, Carlo X, che cercherà, infatti, creerà una seconda rivoluzione. Dall'altro lato si semplifica comunque la mappa dell'Europa. Non tutto quello che ha fatto Napoloni viene cancellato. Pensiamo ad esempio al Sacro Romano Impero, che non verrà ricreato. Pensiamo a Venezia, che non verrà ricreata. La Repubblica di Genova, che non verrà ricreata. La mappa dell'Italia si semplifica, come anche la mappa della Germania. Quindi si riconosce che un'eccessiva suddivisione avrebbe potuto creare dei problemi. E terzo, si crea un equilibrio di potenze, e si inizia però a individuare una certa frattura fra quelle che saranno le potenze che nel nostro risorgimento saranno chiamate potenze liberali, cioè Inghilterra e Francia, e dall'altro lato le potenze più reazionari, guidate soprattutto dalla Russia, che sono appunto Russia, Prussia e Austria. Ecco, quindi il Congresso di Vienna, secondo me, ha raggiunto. Insomma, il fatto è che poi per circa 100 anni ci sia stato comunque un periodo di pace non totale, perché mi dimentichavo che ci sono le guerre, e siamo alla guerra di Crimea, che però rimangono sempre circoscritte. La guerra di Crimea è una guerra dove si affrontano probabilmente tre grandi potenze, Russia, Inghilterra e Francia, però questo non deflagra in una distruzione europea, rimane limitata. Quindi vuol dire che il sistema comunque è talmente potente che riusciva a contenere anche eventuali scopi di aggressività fra nazioni anche importanti. Certo, certamente. Allora, passiamo all'ultimo contributo. L'Europa dopo il Congresso di Vienna. Cosa succede? L'Europa dopo il Congresso di Vienna. Fuggito dall'isola d'Elba con pochi uomini, Napoleone era tornato imperatore. Lo sarà però per soli 100 giorni, dal 20 marzo all'8 luglio 1815. In questo periodo riuscì a riorganizzare un esercito da quasi 100.000 uomini, che sarà poi sconfitto nell'ultima e decisiva battaglia di Waterloo. Napoleone, a cui gli inglesi consentirono di mantenere il titolo di imperatore, fu nuovamente esiliato. Questa volta nella remota isola di Sant'Elena, in mezzo all'Oceano Atlantico, dove resterà fino alla morte. Nel frattempo, il 9 giugno, al Congresso di Vienna, si era giunti alla conclusione dei lavori. Il ritorno di Napoleone aveva contribuito a riunire nuovamente le grandi potenze, ricordando a tutti che sull'Europa gravava ancora la minaccia della dottrina napoleonica. I vari punti di discordia furono risolti e dal Congresso uscì una nuova carta geografica dell'Europa. L'obiettivo che i congressisti si erano prefissati era la creazione di una stabilità, di un equilibrio dell'assetto politico del continente europeo, una condizione necessaria per una pace duratura tra gli Stati e per prevenire anche un rinnovarsi dell'espansionismo francese. Gli obiettivi delle potenze vincitrici si rivelarono però diversi e così i più significativi provvedimenti presi al Congresso dal punto di vista territoriale riguardarono l'Europa centrale e la penisola italiana. L'Inghilterra preferì consolidare la sua supremazia navale con l'acquisizione di colonie come Malta e Silon e in più si vide assegnare il regno di Hannover. La Russia ottenne gran parte del ducato di Varsavia che prenderà il nome di Polonia del congresso e poté conservare il controllo della Finlandia, della Bessarabia, territorio oggi situato tra Ucraina e Moldavia. La Francia, riportata ai confini del 1792, evitò gravi perdite territoriali ma si trovò attorniata da stati cuscinetto per limitarne l'azione come il nuovo regno delle province unite a cui furono annessi i territori dei Paesi Bassi già governati dall'Austria e ora assegnati al Principe d'Orange. Il regno di Sardegna, retto da Vittorio Emanuele I di Savoia, fu ingrandito dall'annessione della Savoia e dall'acquisizione dei territori dell'ex Repubblica Ligure. Nonostante il congresso si fosse concluso con l'affermazione delle grandi potenze, gran parte di quanto fu deciso non durò a lungo. Il tentativo di creare una confederazione di stati tedeschi in Germania e quello di mantenere un'Italia divisa in piccoli potentati portò a una serie di insurrezioni e guerre di unificazione che durarono per i 50 anni successivi. Il tentativo di sedare i sentimenti nazionalistici che la rivoluzione francese e Napoleone avevano disseminato in tutta Europa provocarono proteste, rivolte e insurrezioni che avrebbero portato poi ai moti rivoluzionari del 1848. Anche in Francia la restaurazione dei Borbone fallì. Nel giro di pochi anni la dinastia venne sostituita e 15 anni dopo la Francia tornò ad essere una Repubblica. La novità introdotta dal congresso di Vienna e che sopravvisse negli anni fu l'idea che i grandi conflitti e le questioni internazionali andassero risolte da riunioni a cui prendevano parte tutte le nazioni coinvolte. Era nata una cultura politica della diplomazia in Europa. Questo, a distanza di un secolo, avrebbe portato alla nascita della Società delle Nazioni e poi, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, a quella delle Nazioni Unite. Ligio Simone ci vuole dare un suo parere su questo periodo post-congresso e se la gente ha capito qualcosa di più, cioè si ha preso consapevolezza che anche le persone contano, mentre prima le persone non contavano, erano zero, salvo che non fossero preti o nobili, improvvisamente. Anche l'umile, diciamo, cittadino ha la certezza che la sua presenza possa cambiare in qualche maniera la politica. Allora, questo punto di cui l'ha parlato è estremamente importante anche per la carriera di Napoleone, nel senso che Napoleone, ed è per questo che spesso viene ricordato come un mito, è proprio un individuo, un uomo fondamentalmente che parte, voglio dire sfavorito, però sicuramente nasce in una provincia estremamente secondaria del Regno di Francia, non appartiene a una famiglia ricca, riesce però a diventare imperatore, a governare l'Europa con le sue forze. E questo è un esempio per tutti i cittadini, cioè ogni uomo si rende conto, è il famoso concetto che ogni suo dato è il bastone da maresciallo, cioè adesso, dopo l'evoluzione francese, qualunque uomo può arrivare anche a risultati incredibili. Non ci sono più quelle barriere, che sono barriere di tipo proprio di censo, ma si è liberato. Il concetto fondamentale è che ogni uomo ha dei diritti inalienabili e uno dei diritti è appunto il diritto di poter esprimere la propria individualità e quindi anche con le sue capacità intellettuali, morali, fisiche, arrivare a dei grandi risultati. Questa cosa qua, quindi, è una sorta di nuovo umanesimo. È una sorta di nuovo umanesimo, però mentre nel Cinquecento l'umanesimo era stato alla fine ristretto a quello che erano le classi dominanti, qui invece l'umanesimo filtra, sgocciola su tutti gli strati della società, fino ad arrivare anche agli strati più bassi. Non dimentichiamo che i soldati, appunto a cui si dice guarda che tu potresti diventare maresciolo di Francia e la maggior parte sono contadini. E vengono educati nell'esercito e continuano questo concetto di tu puoi andare avanti, puoi essere promosso. È legato anche al fatto che vent'anni di guerra devastanti chiaramente falcidiano i corpi ufficiali e quindi ci sono bisogno di sempre nuove leve e quindi che vengono prese dove? Dal basso. Quindi ecco, quello che rimane del concetto napoleonico è quello che oggi viene chiamato una forte dinamica sociale. Una dinamica sociale verso l'alto. Ad esempio, oggi noi stiamo in un periodo che tutti i sociologi definiscono di bassa dinamica sociale. Il concetto è che chi nasce in uno strato basso della società tende fortemente a rimanerci. Chi nasce in uno strato alto della società invece rimane in uno strato alto della società. Questa cosa qua quindi è fondamentale per quello che succederà dopo perché inizia non dimentichiamo che le prime chiamiamo cospirazioni rivolti, motti carbonari per ottenere le Costituzioni sono del 1821 con la Costituzione spagnola addirittura in una nazione che aveva rifiutato la rivoluzione francese quindi è ancora più incredibile che proprio dalla Spagna nasca il primo concetto di Costituzione e la Costituzione sarà quello che verrà inseguito per i successivi 30 anni diciamo dalla borghesia Costituzione però vuol dire anche libertà di stampa ad esempio quindi è molto forte la spinta a potersi libertà di associarsi quindi proprio di libertà di esprimersi attraverso il mezzo stampato attraverso la parola questo per i successivi 30 anni fino a quando in tutta Europa più o meno verranno concesse delle Costituzioni sarà il leitmotiv della spinta della società al miglioramento grazie allora professor Zanella vuole concludere lei questo passaggio che apre un'Europa totalmente diversa ovviamente con grandi conflitti con grandi contrasti ma alla fine si aprirà un Europa ci sarà una divisione chiuderemo il vecchio diciamo medioevo e si apre invece la possibilità da parte di tutti gli uomini europei di accedere il famoso self-made man cioè io posso arrivare ad essere qualcuno e non ho più l'ostacolo del fatto che io non sono figlio di un nobile o non sono un sacerdote sì l'analisi la farei più sul piano istituzionale cioè la valenza l'importanza che ha il congresso di Vienna perché è il primo vero tentativo di un nuovo ordine mondiale non autoritario per la prima volta le potenze si mettono attorno a un tavolo e cercano di trovare un equilibrio non è solo una restaurazione come spesso si legge sui libri di storia perché passano nelle varie sedute di questo congresso di Vienna che si svolge nel nobile palazzo di Schönbrunn passano tre principi e sono quelli della restaurazione monarchica riportare un po' la storia indietro al 1792 la legittimità dei poteri quindi un riconoscimento anche giuridico e la solidarietà dei sovrani è giusto tenere presente anche altre cose che qualcuno come Ferrero uno storico che ha dedicato un bel libro al congresso di Vienna dice che è stato il congresso dei peggiori statisti e dei migliori diplomatici i migliori diplomatici in questo caso Metternich per l'Austria Tayerland per la Francia Humboldt e Hardenberger per la Germania e Kasterrecht per l'Inghilterra e Alessio I per la Russia ecco abbiamo un successo anche della diplomazia l'unico limite o fra i limiti che possiamo riconoscere è che non riescono a capire le istanze i sentimenti dei popoli delle nazioni questo farà sorgere quei movimenti che sfoceranno poi in un risorgimento qua e lì saranno però come è stato detto anche dal collega Simone circoscritti e regionali questi tentativi rivoluzionari ma se non altro questo congresso riesce a portare l'Europa fino alle soglie della prima guerra mondiale e se c'è qualcosa che va a mio avviso appreso da questa importante assise diplomatica è questo di aver invitato la Francia come è stato sottolineato anche nel servizio e di non averla umiliata la Francia cosa che invece si farà con la Germania a Versailles e cosa che si farà nella seconda guerra mondiale agli alta nel 45 quindi la diplomazia lì aveva dimostrato una certa importanza di riconoscere tutte le parti in causa senza umiliarne nessuna è quello che si dovrebbe recuperare nel mondo contemporaneo dove sembriamo più in preda a una mancanza di strategia di anarchia delle nazioni certo quindi abbiamo visto come diciamo l'Europa di adesso appone le radici proprio nel congresso di Vienna che è un congresso che raduna naturalmente riporta lo statu quo precedente ma in realtà non riesce a gestirlo e succederà tutto quello che succederà per esempio l'unità d'Italia fatta in quella maniera e adesso l'unità europea dopo che abbiamo fatto un disastro con la seconda guerra mondiale quindi qualcuno dopo i disastri riesce anche a trarre un beneficio ecco in questo senso speriamo che i nostri europei riescano a capire questa guerra che stiamo diciamo in qualche maniera così analizzando e partecipando non è certamente una cosa positiva bisogna trovare anche con il nemico trovare un accordo chiudere la questione perché questo è solo vantaggio diciamo e ne abbiamo parlato prima solo vantaggio delle multinazionali e dei gerarchi e dei oligarchi naturalmente che ci guadagneranno un sacco di soldi certo 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 beh comunque sicuramente il congresso di Vienna è stato un evento chiaramente innovativo come abbiamo detto anche nel servizio per quello che ha lasciato e quindi l'insegnamento che ha lasciato anche se è stato ovviamente come si diceva un congresso particolare otto mesi tra feste banchetti si è trascinato a lungo anche litigi e solo alla fine quando Napoleone si è rappresentato anche con la sua forza perché poi riesce in poco tempo a riorganizzare l'esercito e allora in quel momento lì le nazioni che avevano vinto gli imperi che avevano vinto contro Napoleone trovano finalmente la quadra credo che i francesi siano stati ammessi comunque al congresso di Vienna forse più per una questione di come dire di parità di grado rispetto di un pari grado che non per il diritto della nazione diciamo tra virgolette a quell'epoca tra nobili diciamo probabilmente il diritto lo faceva il nobile quindi hanno gestito le cose in questa maniera ma d'altro canto se non l'avessero fatta avrebbero creato una falla in Europa ci avrebbe escluso la Francia e creato un equilibrio che sarebbe stato ulteriormente diciamo negativo per gli altri stati e per la restaurazione quindi viene messo un re a sua volta e in Francia solo che naturalmente i tempi sono cambiati la gente si è svegliata ha capito che le cose non erano non potevano continuare come nel secolo precedente e quindi si è diciamo il sistema si è assestato in un'altra maniera e saranno poi i prodrome della prima guerra mondiale che porterà il primo disastro e poi le premesse per la seconda guerra mondiale nel momento in cui cadono gli imperi arrivano poi i dittatori bene allora ci fermiamo qui allora innanzitutto grazie agli ospiti che sono stati con noi in collegamento dottor Livio Simone grazie vicepresidente dell'associazione napoleonica d'Italia e in studio il professore Patrizio Zanella docente di storia e giornalista che abbiamo con noi frequentemente grazie per la disponibilità noi prima di salutarci come sempre parliamo dei nostri ospiti silenziosi purtroppo per nessuno dei tre ci sono novità particolari per Giulia Nassange non è ancora arrivata la decisione della ministra dell'interno britannica Priti Patel sulla sua estradizione però è arrivato un appello della rappresentante della OSCE per la libertà dei media Teresa Ribeiro che ha invitato le autorità britanniche a non estradare Giulia Nassange negli Stati Uniti voglio esprimere ha detto la mia preoccupazione per l'impatto che tale decisione può avere sulla libertà dei media e sul giornalismo investigativo chiaramente se Assange dovesse essere estradato negli Stati Uniti sarebbe una gravissima violazione della libertà di stampa oltre che della libertà appunto di un giornalista che ha fatto come abbiamo avuto modo di dire più volte solo ed esclusivamente il suo il suo dovere resta ancora sotto processo Aung San Suu Kyi la leader birmana ricordiamo il nuovo è per la pace nel 1971 mi pare che è appunto è ancora sotto processo ed è ancora in attesa di giudizio e resta agli arresti in attesa del 21 giugno la data si sta invece avvicinando per Patrick Zaki per una nuova udienza un'udienza che noi ci auguriamo possa essere quella definitiva e di assoluzione dalle accuse ci tratta di tre nomi che rappresentano le migliaia di persone che subiscono la violazione dei loro diritti dei diritti umani per come dire reati di opinione e per loro chiediamo come sempre liberazione la liberazione e che abbiano giustizia ci fermiamo qui grazie ancora ai nostri ospiti che ci hanno aiutato a come dire approfondire la figura di Napoleone e il congresso di Vienna grazie a voi telespettatori che ci avete seguito fino a quest'ora ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21 come sempre con TV7 Match buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.